I sindacati dei trasporti hanno scritto al prefetto di Salerno chiedendo il suo intervento nei confronti del CSTP. La situazione di preconcordato avviata dal collegio dei liquidatori infatti metterebbe a rischio il pagamento degli arretrati, in particolare della mensilità di settembre ai lavoratori, per garantire un pari trattamento tra i creditori. Infatti la liquidazione delle spettanze potrebbe slittare almeno per ora, una eventualità che preoccupa le organizzazioni sindacali. Ci risulta che malgrado la corrisponzione dei contributi di esercizio da parte delle stazioni al CSTP, l'azienda per via del fatto che si trova in preconcordato sta mettendo in discussione il pagamento delle retribuzioni arretrate. Abbiamo immediatamente sollecitato la prefettura affinché possa intervenire per sbloccare una situazione che corre il rischio di diventare drammatica. Intanto potrebbe slittare anche l'assemblea dei soci, prevista per domani in seconda convocazione. Gli enti proprietari del consorzio dovrebbero riunirsi il 22 novembre, dando la possibilità ai liquidatori di presentare un piano industriale aggiornato. Il documento che dovrebbe essere discusso domani infatti è fermo al 30 settembre e quindi non tiene conto della sentenza del Consiglio di Stato che la scorsa settimana ha condannato la Regione Campania a pagare quasi 5 milioni di euro al CSTP. Questo è il nostro auspicio che quanto prima si faccia l'assemblea dei soci perché dopo tante enunciazioni da parte degli enti proprietari si è deciso di capitalizzare. Naturalmente questo servirebbe per uscire da questo stato di liquidazione e quindi tornare alla normalità perché proprio come diceva l'amico Amedeo questa condizione non è più sopportabile pure perché oltre a ciò che ha detto Amedeo i dipendenti vantano anche i buoni pasto arretrati di circa sei mesi. Attualmente si parla di perdite per 8 milioni e mezzo con un milione di capitale, una cifra che però potrebbe ridursi oltre che in base alla sentenza del Consiglio di Stato anche con la possibile approvazione della legge regionale presentata dal salernitano Gianfranco Valiante sul recupero dell'IVA che varrebbe altri 3 milioni e mezzo. Ovviamente c'è una disponibilità di massima, è chiaro che per esprimersi concretamente al di là del fatto che l'organo competente del Consiglio Comunale si attende appunto di conoscere il piano industriale, i numeri precisi che probabilmente anche domani saranno interlocutori perché c'è la necessità di mettere a punto anche il discorso sentenza del Consiglio di Stato e quindi un approfondimento ulteriore. Reputo ovviamente, come già avevamo manifestato, che ove ce ne fossero le condizioni bisogna fare di tutto quello che è possibile per salvare l'azienda e creare una possibilità di salvezza per il personale anche se lo stesso dura a fare sacrifici proprio per partecipare con il costo delle forze di lavoro al piano industriale complessivo. L'importante è prima di esprimersi e conoscere bene i numeri e capire bene quali sono le cifre relative alle perdite e quali sono le cifre relative al capitale da versare perché può diventare dedimenti anche la diversa appostazione di questi numeri. Con molta serenità e con grande attenzione come stiamo facendo da tutti questi mesi noi aspettiamo di leggere cose concrete e su questo esprimerci.